Il primo è il numero uno, Nicolano Franconi, l'anno scorso vi chiediamo una delle mie sport, vai venite ragazzi, che li mettiamo a fianco, a fianco dei piloti, eh ragazzi è un po' di carisma motociclistico per i nostri piloti, eccoli qua, Nicolano Franconi lo ricordiamo l'anno scorso è stato il vincitore, eccolo qua, poi il secondo a presentarsi, Jacinto, e Roberto Ponsicchi, a fianco, Diarno Castelli, andiamo con la ragazza per la seconda, eccola qua, eccola, Diarno Castelli, e noi abbiamo anche il vincitore dell'ultima frazione, ovvero Moretti, mentre Ponsicchi, purtroppo non hanno la balletta a fianco, ma c'è sicuramente il numero 89 da tenere in considerazione, Bocca Bramilla, e poi anche Borgiotti, facciamo trovare un angolo per Borgiotti, facciamo avanzare per questa foto di Rito, ragazzi vi chiedo un'ulteriore sforzo, via per un attimo i golfini, per la foto, di Rito, via, via i golfini, forza, via i golfini, nude, nude, sì un attimo solo, giù, 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 ok, 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 è più bello così, no, cosa ne dite? Stanno meglio, eh? Ecco dai, allora, un bel applauso ai sei finalisti, esatto, fatto, questo appuntamento del Super Patan, eccole qui, adesso le ragazze le possiamo far rivestire, grazie, fa freddo, ci siamo resi conto, andate a filarvi subito, la camicetta, state in una posizione centrale, con il addirittore di Rario Fiere, spegniamo le voto e sentiamo quanto dice, Castelli, fin.